All'indomani delle dimissioni dell'assessore di Figline Incisa Mattia Chiosi, dimissione arrivate dopo i fatti del Consiglio Comunale del 6 giugno, oggi il Comune di Figline Incisa Valdarno informa che tutte le sue deleghe saranno assunte direttamente dalla Sindaca Giulia Mugnai. In particolare si tratta di cultura, istruzione, formazione, sport e politiche giovanili, pari opportunità, gemellaggi. Deleghe che sembra però rimarranno poco tempo alla Sindaca, poiché l'intento è quello di redistribuirle ad altri. Mugnai, dal canto suo, ringrazia l'assessore Chiosi per quanto ha fatto in questi quattro anni di legislatura. Al momento attuale ho assunto io le deleghe, ovviamente mi preme ringraziare l'assessore Chiosi per il lungo e importante lavoro che è stato fatto, in particolare su tanti ambiti della cultura e della scuola, perché sono state tantissime le progettualità che sono state portate avanti grazie al suo lavoro e quindi lo ringrazio per quello che ha fatto e lo ringrazio anche per il gesto di sensibilità perché ha voluto tenere fuori dalla vita amministrativa una vicenda di carattere personale. Al momento ho attuato, ho preso appunto su di me le sue deleghe e lavorerò assieme alla maggioranza per trovare la miglior soluzione per il futuro per ricomporre al pieno la Giunta.